Ultimi giorni per iscriversi al Master di secondo livello in Business Administration organizzato dall'Università della Calabria. Il Master è inserito nella catalogo alta formazione della Regione Calabria e pertanto la partecipazione è finanziabile anche con i voceri regionali. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il prossimo 31 gennaio e la domanda di ammissione si può compilare direttamente online. Che senso ha e quali motivazioni possono portare in una regione periferica come la Calabria un Master del genere? La motivazione principale è dare al tessuto dell'economia calabrese quella competenza dei middle manager che in genere purtroppo le aziende di estrazione familiare o condizione familiare non hanno per un semplice motivo. I middle manager sono quegli specialisti nelle diverse funzioni, il marketing, l'amministrazione e il controllo, le risorse umane, la gestione e la produzione che purtroppo non prediligono di rimanere nella nostra regione per tante ragioni di sviluppo, di carriera. Il motivo allora per noi per lanciare questo Master in Business Administration all'Università della Calabria è proprio formare questi middle manager collaborando con le aziende più dinamiche del tessuto economico regionale e fare in modo quindi che si crei un vivaio di managerialità. Quindi l'obiettivo è dare alle aziende calabresi questi profili di manager che dall'esterno della nostra regione purtroppo non si riescono ad attrarre. A chi è rivolto questo Master? Il Master è rivolto a tutti i laureati, laureati in tutte le discipline. Non ci sono particolari limiti di età e in più è opportuno segnalare che ci sono anche dei voucher della regione Calabria che possono coprire quasi l'80% della quota di iscrizione. Inoltre è anche previsto un prestito d'onore messo a disposizione da un importante istituto di credito, banca intesa, che può dare un prestito rimborsabile in 10 anni da quando si inizia a lavorare senza garanzie familiari. Per cui tutta la quota di iscrizione può essere ampiamente coperta. La cosa importante è tenere in considerazione che la scadenza è al 31 gennaio, che anche la scadenza dei voucher è al 31 gennaio, ma soprattutto è poi che ci sarà uno stage, un tirocinio curriculare, remunerato con 400 euro al mese sempre da parte della regione Calabria. Quindi tutta la quota di iscrizione può essere in questo modo quasi coperta, in parte con gli aiuti, in parte con il prestito d'onore e questo è molto importante perché è un'opportunità non solo per i nostri giovani, perché ripeto non ci sono particolari limiti di età per fatto salvo che il master è da frequentarsi a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Come deve fare per iscriversi? C'è un sito mbaunical.it dove si trovano tutte le informazioni e da questo poi si trovano tutti i contatti nella sezione a missione.